Si è appena conclusa questa giornata e mezza di lavori di FPA Europe a Parigi, mi piace trarre alcune considerazioni conclusive, direi che tutti gli impegni che abbiamo avuto sono stati di altissimo livello, abbiamo iniziato ieri con il Think Tank che ha visto una serie di certificati in rappresentanza dei diversi paesi nei quali siamo presenti con le varie FPA locali aver contribuito al dibattito su due tematiche di assoluta attualità, da un lato la tematica ISG che è stata sviscerata in tutti i diversi aspetti, sottolineando come un bravo consulente finanziario, un bravo financial planner debba assolutamente padroneggiare queste tematiche per aiutare la clientela a capire quali sono le tematiche di valore e quali sono le opportunità effettive che si stanno presentando sul mercato grazie a questa ondata di nuovi prodotti, distinguendo appunto ciò che è sostanza da ciò che è solo forma. Poi siamo passati con il secondo Think Tank a fare delle riflessioni estremamente interessanti sulla impostazione dei portafogli, sia da un punto di vista strategico, sia da un punto di vista tattico, nei momenti di grande volatilità come quelli che abbiamo attraversato in questi ultimi mesi e anche qui la possibilità che ci è stata offerta dai colleghi certificati e di riflettere su quelle che sono le loro problematiche nella gestione quotidiana del rapporto con i clienti sono state di assoluto interesse. Il pomeriggio della giornata di ieri è stato poi dedicato ad un momento di riflessione interna tra tutte le diverse EFPA locali con il coinvolgimento non solo dei board member ma anche delle varie persone che rappresentavano gli staff delle diverse realtà locali, perché abbiamo voluto da un lato riflettere sull'evoluzione del numero dei nostri certificati, l'aver raggiunto e superato la quota dei 93 mila certificati costituisce da un lato un risultato straordinario che ce l'avamo prefissi di raggiungere, che finalmente abbiamo raggiunto, ma dall'altro lato ci deve assolutamente spronare a non mollare il colpo e a trovare sempre nuove proposte da presentare al mercato in modo tale da tenere questa quota di mercato che abbiamo raggiunto faticosamente soprattutto negli ultimi 10 anni. Abbiamo poi dedicato un bel po' di tempo a riflettere sulle best practices sviluppate all'interno delle singole EFPA e quindi era un'occasione di confronto per poterle apprendere e magari mutuare tra le diverse realtà, sia in termini di come gestire i canali mediatici per poter diffondere quanto più possibile la conoscenza dei nostri certificati e del valore della certificazione al pubblico finale, in modo tale da supportare i nostri professionisti nel riconoscere da parte del mercato il valore della certificazione che hanno ottenuto e poi nel automatizzare o in ogni caso gestire con maggiore flessibilità tutti i vari processi che caratterizzano un po' la macchina interna di EFPA, come gestire tutti i crediti formativi che vengono richiesti ogni anno per il mantenimento della certificazione, come gestire il pagamento delle varie FII per mantenere appunto lo status di certificato, verificare lo stato di approfondimento dei diversi crediti formativi, quindi diciamo tutta una serie di supporti sui quali alcune EFPA in particolare hanno sviluppato dei veri e propri meccanismi automatizzati che è stato interessante condividere con tutti gli altri. La mattinata di oggi infine è stata dedicata a due principali tematiche, il primo panel che ha visto soprattutto la presentazione di Mariola, la Presidente di EFPA Polonia, è di un lavoro che ci ha impegnato negli ultimi mesi per fare l'ennesimo aggiornamento di quello che è lo stato dell'adozione da parte dei diversi paesi europei delle linee guida ESMA in materia di competenze e conoscenze. Lo studio è stato particolarmente approfondito grazie anche ad un gruppo di lavoro e soprattutto con il supporto di due professionisti di uno studio legale internazionale basato a Madrid e è stata anche l'occasione per prendere poi una posizione finale che Mariola ha espresso con assoluta chiarezza sul fatto che noi non siamo soddisfatti di come il regolatore ha ad oggi normato o tentato di normare questi requisiti per riconoscere le competenze e le professionalità dei consulenti finanziari e dei financial planner e da questo punto di vista abbiamo messo la nostra esperienza a disposizione dei regulator per potersi, se lo vorranno, confrontare con noi anche e soprattutto alla luce di un'ipotesi di una label unica europea che secondo noi è un traguardo che può essere assolutamente raggiunto e sul quale, ripeto, l'esperienza maturata da 20 anni di attività, anzi 22 ormai di attività sui diversi mercati europei, penso ci metta nella condizione di poter suggerire qualche soluzione interessante. Nella successiva tavola rotonda coordinata da Joseph Soler Alberti, il punto di riferimento non solo di EFPA Spain ma anche di EFPA Europe è stata dedicata al tema, come era inevitabile che fosse, del retail investment strategy, il documento che è uscito soltanto una decina di giorni fa e sul quale ovviamente ci sono opinioni e discordi a seconda che si tenga in considerazione il punto di vista dei distributori barra collocatori, barra intermediari finanziari che offrono il servizio di consulenza in materia di investimenti, da una parte l'industria dall'altra e il regulator dall'altra ancora. È stato interessante poter avere presente Salvatore Agnoni in rappresentanza dell'ESMA e da remoto avevamo due esponenti delle FAMA e della Commissione Europea e il dibattito che è stato animato da Joseph ha consentito di mettere inevitabilmente in evidenza come i punti di vista siano abbastanza diversi e come su questa materia saremo costretti a tornare nei prossimi mesi, anche perché siamo ancora in attesa dell'ultimo documento definitivo che verrà emanato dal Parlamento. Quindi direi che è stato un giorno e mezzo intensissimo, da tutti ci è stato riconosciuto la qualità del lavoro svolto e la qualità degli interventi e dei panelist per cui esprimo assolutamente grandissima soddisfazione.